Non lo è, ma è anche facile accertare o reprimere ad esempio un grado di spaccio di stupefacenti che si svolge sotto gli occhi di molti in una piazza o in un locale. Ciò che è difficile è individuare invece quelle condotte che sono punte percolose che si svolgono e si effettano nell'uso di una casa o anche solo di una stanza.